I migliori 5 riferimenti a Breaking Bad nei videogiochi In Control è possibile trovare un laboratorio del tutto simile a quello in cui hanno lavorato Walter e Jesse In Hitman, un avvocato che lavora presso l'Università alla Sapienza di Roma, ha un nome molto familiare In House Flipper è possibile acquistare e ristrutturare la casa del professor Eisenberg Nell'edificio ci sono diversi riferimenti alla serie, come la pizza scagliata sul tetto, la scritta sulla parete e l'orsacchiotto di peluche in piscina In Goat Simulator, durante una quest, troveremo un familiare camper con a fianco dei bidoni azzurri Bisognerà quindi provare a cucinare piazzandoli nel posto giusto sfruttando la nostra lingua prensile Il risultato sarà pessimo ovviamente, visto che siamo una capra, ma ne è valsa decisamente la pena In Rage, se ci si reca nel retro dell'ufficio dello sceriffo, è possibile trovare un cubo contenente la griglia dentale di Tuco